E' chiaro che dispiace, dispiace perché comunque non ha portato nessun punto però parliamo per la squadra, che comunque la squadra forse potremmo partire meglio all'inizio perché comunque loro sono partiti belli tosti, ci aspettavamo una reazione del genere ma è peccato perché comunque in settimana abbiamo lavorato appunto sulle loro ripartenze ma purtroppo per la prima mezz'ora eravamo un po' in confusione poi nel momento migliore è il nostro terzo gol, adesso in settimana analizzeremo gli errori fatti sperando di migliorarli Ma è chiaro, adesso già da domani inizieremo a lavorare in vista sabato perché comunque vogliamo tutti noi riscattarci per la prestazione di oggi Indubbiamente è una piazza molto importante, anche oggi hanno dimostrato il loro valore quindi sinceramente dispiace perché comunque anche oggi erano in tanti e cercheremo di darle una gioia già sabato Grazie mille! Grazie.